Gli affari favoriscono nella maniera più efficace gli interessi della razza umana. Tuttavia, consegnano inevitabilmente la ricchezza nelle mani di pochi. Nonostante ciò, l'accumulazione della ricchezza da parte di coloro che hanno avuto l'energia e la capacità di produrla non ha portato il male, ma il bene. Ma qual è la maniera più efficace di distribuire la ricchezza dopo che le leggi su cui è fondata la nostra civiltà l'hanno concentrata nelle mani di pochi? A questa domanda credo di poter offrire la soluzione corretta. Maledetti ebook! Qualche giorno fa è uscita una notizia che parlava di Jeff Bezos e delle sue attività filantropiche. In particolare, il proprietario di Amazon ha aperto un fondo di 10 miliardi di dollari a sostegno della lotta contro il climate change. E ascoltando questa notizia mi è venuta in mente proprio quest'opera di Andrew Carnegie della fine del 1800. E quindi mi son chiesto, ma perché non parlarne sul canale? E quindi siamo qui, sul canale, a parlare di ricchezza, di disuguaglianza economica e di alcune soluzioni che sono state proposte durante la storia. Carnegie è un classico esempio del sogno americano. Nasce in Scozia nel 1835. E 13 anni dopo, lui e la sua famiglia partono alla volta degli Stati Uniti in cerca di fortuna. Ma la sua famiglia era così povera che dovette chiedere un prestito per potersi permettere il viaggio. Negli Stati Uniti inizia a lavorare in un cotonificio per 12 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. E la sua paga era di 1,20 dollari a settimana. Con il lavoro scopre un grande fiuto per gli affari. E dopo una lunga carriera imprenditoriale decide di ritirarsi vendendo la sua attività siderurgica a JP Morgan per 480 milioni di dollari. Circa 12 miliardi di adesso, diventando uno degli uomini più ricchi del mondo di allora. Carnegie è molto conosciuto in America per le sue attività filantropiche. Nel 1889 scrive Gospel of Wealth, di cui io ho appena letto alcuni versi. Quest'opera è una chiara risposta al pensiero comunista, che ebbe inizio solo qualche anno prima grazie a Marx e al suo libro Il Capitale. Devo distruggere capitalismo! In armonia con la corrente filosofica del positivismo in voga a quel tempo, l'opera di Carnegie si basa su due elementi fondamentali, dal ruinismo sociale e il libero mercato. Questi due elementi si possono notare anche nelle poche righe che ho letto precedentemente. Quando ad esempio parla di accumulazione della ricchezza da parte di coloro che hanno avuto l'energia e la capacità di produrla, è un chiaro riferimento al principio della lotta per la sopravvivenza. Oppure ancora, quando parla di leggi su cui è fondata la nostra civiltà, che hanno concentrato la ricchezza nelle mani di pochi, fa un chiaro riferimento alle leggi del libero mercato e della concorrenza. Leggi che, secondo Carnegie, hanno permesso lo sviluppo industriale e che sono insite nell'essere umano e quindi impossibili da estirpare. Cambiare la natura umana non è realistico. Non è realizzabile oggi o nel nostro tempo. Anche se fosse teoricamente desiderabile, fa parte di un altro strato sociologico che ha tempi molto lunghi. I nostri doveri riguardano quello che è realizzabile oggi. Sarebbe criminale sprecare le nostre energie nel tentativo di sradicarne l'albero universale dell'umanità, quando quello che possiamo utilmente fare è piegare un poco i suoi rami nella direzione più favorevole a produrre qualche buon frutto nelle circostanze che ci sono date. Il problema della disuguaglianza di ricchezza, quindi, per Carnegie è un costo necessario per il progresso. È un costo che l'umanità deve sopportare per poter vedere le proprie condizioni di vita migliorate. Ma questo evento, per Carnegie così naturale e impossibile da estirpare, non lo ferma dal proporre delle soluzioni. Ci sono solo tre modi in cui è possibile utilizzare la ricchezza in eccesso. È possibile lasciarla alle famiglie dei defunti. Oppure può essere lasciata in eredità per qualche obiettivo pubblico. O, infine, chi la possiede può distribuirla nel corso della propria vita. Le prime due soluzioni Carnegie le disprezza, perché ha potuto osservare cosa ha prodotto la nobiltà di allora. Spreche inefficienza che non portano a nessuna redistribuzione. Ma senza andare indietro di un secolo e mezzo possiamo prendere, ad esempio, Gianluca Avacchi. È un ottimo esempio di come le ricchezze ricevute in eredità possono portare a chi le riceve più danni che benefici. Perciò Carnegie pensa che l'ultima soluzione sia quella migliore. E cioè che chi possiede la ricchezza in eccesso debba redistribuirla nel corso della propria vita. E per incentivare questo atteggiamento propone anche una tassa di successione molto alta. Tra tutte le forme di tassazione, questa mi pare la più saggia. A coloro che per tutta la vita continuano ad ammassare grandi somme, che se usate con efficacia potrebbero giovare moltissimo al bene comune, bisogna far capire che la comunità non può essere depredata della quota che le spetta da questo comportamento. Tassando pesantemente le fortune al momento della morte, lo Stato sancisce la condanna di una vita inutile, quella del milionario egoista. Questa politica funzionerebbe a meraviglia per indurre il ricco a distribuire i suoi averi nel corso della propria esistenza. Infatti è questo l'obiettivo che dovrebbe avere ogni società, perché è quello che porta maggiori vantaggi alla gente. L'arma della tassazione, e cioè dare il compito allo Stato di ridistribuire la ricchezza in eccesso, per Carnegie non è una vera e propria soluzione, bensì un incentivo, come abbiamo appena visto. Questo perché Carnegie pensa che solo chi è riuscito ad accumulare così tanta ricchezza ha poi le capacità e le skills di poter ridistribuire questa ricchezza alla comunità in maniera efficiente. Ok, ma perché stiamo parlando di un'opera datata 1800? Semplicemente perché il pensiero di Carnegie è un pensiero molto attuale anche adesso. Abbiamo già visto l'opera filantropica di Jeff Bezos, ma sentite cosa dice Jack Ma. Sembra che lo spirito di Carnegie si sia impossessato del corpo del fondatore di Alibaba. Proprio come pensava il filantropo scozzese, anche Jack Ma pensa che i miliardari potrebbero ridistribuire la propria ricchezza in maniera più efficiente rispetto a quello che potrebbe fare lo Stato. E in più abbiamo visto che non pensa che la propria ricchezza sia sua, bensì sia della comunità che si sente in dovere di poterla ridistribuire al popolo. Sentite inoltre cosa scrivono Bill e Melinda Gates al riguardo. Siamo stati benedetti con la fortuna al di là delle nostre più grandi aspettative e ne siamo profondamente grati. Ma proprio come questi doni sono grandi, così ci sentiamo una grande responsabilità di usarli bene. Questo paragrafo è stato preso da una lettera dove i due miliardari annunciavano la loro adesione a Giving Plage. Giving Plage è un movimento di filantropi fondato nel 2010 da Warren Buffett e la famiglia Gates e il pensiero di Carnegie è un pilastro portante dell'organizzazione. L'obiettivo del movimento è convincere e impegnare gli uomini e le donne più ricche del mondo a creare e perseguire progetti di filantropia. Proprio come la Bill e Melinda Gates Foundation, la fondazione privata più grande del mondo che è impegnata nel migliorare le condizioni di vita dell'umanità, soprattutto quella più povera. Per entrare nel movimento bisogna promettere di donare più della metà della propria ricchezza all'umanità. Aspetta un attimo, ma promettere? Questo è uno dei punti di forza ma anche di debolezza dell'intero progetto. Infatti Giving Plage, proprio come negli ideali di Carnegie, non gestisce direttamente neanche un euro e non obbliga nessuno a donare. Infatti l'iniziativa filantropica parte direttamente dal miliardario che decide quando, come e dove spendere i propri soldi, senza nessuna intermediazione del movimento. Quindi ci sono sicuramente gli esempi virtuosi della famiglia Gates o di Warren Buffett, ma c'è anche lei, Sarah Blackley, che scrivendo una lettera di rito nel momento in cui è entrata nel movimento ha dichiarato che per il momento non avvierà nessuna azione filantropica e che continuerà a concentrarsi nella sua attività imprenditoriale. Al contrario di quanto pensava Carnegie, anche i miliardari sbagliano nel redistribuire le proprie ricchezze e di questo i partecipanti di Giving Pledge ne sono consapevoli. Infatti ogni anno si riuniscono e discutono delle proprie iniziative in modo da imparare dei propri errori e cercare di ottenere dei consigli sulle proprie iniziative che stanno portando avanti. Le persone sono molto humblese e sono davvero lì per imparare, perché credo che se sei in l'area di filantropia i problemi sono così grandi e sai che sei solo una piccola parte di cercare di risultare questo, ma c'è un senso di che voglio imparare da te, cosa hai imparato, magari la tua area è il traffico di umano e la mia area è il sistema di prisione, o che sono interessato in educazione dell'Unione Europea e qualcuno è interessato in rifugiati. Tra le 10 persone più ricche al mondo secondo Forbes, 5 fanno parte di Giving Pledge, che ad oggi conta 206 persone partecipanti e in più alcuni nomi noti potrebbero essere Elon Musk o la ex moglie di Jeff Bezos, McKinsey Bezos. Ok, ma non stiamo parlando dell'elefante nella stanza e cioè come i miliardari cercano di risolvere le disuguaglianze economiche nel mondo? Oppure, detto in altro modo, alle persone bisogna dargli il pesce o insegnargli a pescare? Vediamo cosa ne pensa Carnegie. Sarebbe assai meglio per l'umanità se i milioni dei ricchi venissero buttati a mare, piuttosto che sperperati per incoraggiare gli oziosi, gli ubriaconi e gli indegni. Su 1000 dollari che oggi vengono spesi nella cosiddetta beneficenza, probabilmente 950 vengono spesi male e finiscono per aggravare gli stessi mali che vorrebbero mitigare o curare. Quando facciamo beneficenza, la prima regola deve essere aiutiamo coloro che sono in grado di aiutarsi da soli. Forniamo una parte dei mezzi con i quali coloro che si vogliono migliorare potranno farlo. Aiutiamo, ma non facciamo mai tutto, o solo di rado. Nel singolo, nella razza umana, si migliorano con l'elemosina. Beh, abbastanza pesante direi. Qui di nuovo si notano le evidenti idee di darwinismo sociale di Carnegie. Idee di Carnegie che sono frutto anche delle proprie esperienze personali. Infatti da bambino ha avuto la possibilità di formarsi non grazie allo Stato che gli ha dato dei soldi, bensì grazie a delle biblioteche pubbliche che lui ha potuto frequentare, costruite da dei filantropi che lo hanno preceduto. 60 anni dopo la morte di Carnegie, anche la giovane Melinda Gates non gli hanno dato dei soldi per potersi comprare un libro, bensì gli hanno dato una biblioteca pubblica. Gli hanno dato un'opportunità e non del denaro. Ed è sostanzialmente quello che fanno la maggior parte delle fondazioni gestite da dei filantropi. Non ridistribuiscono i soldi accumulati dal loro lavoro in maniera diretta alle persone. Investono i loro soldi cercando di creare delle condizioni favorevoli per poter permettere alle persone di uscire da uno Stato di miseria. Ok, ma fino ad adesso non abbiamo parlato del ruolo che deve avere lo Stato. E lo facciamo adesso grazie a lui, Rutger Bregman. Tasse. È stato abbastanza eloquente lo storico olandese. Per lui la ricchezza si dovrebbe ridistribuire grazie allo Stato e allo strumento delle tasse. E in un mondo ideale i filantropi non dovrebbero esistere. Bregman va anche oltre. Infatti pensa che tutte le ricchezze accumulate tramite le tasse lo Stato le dovrebbe ridistribuire grazie a un reddito minimo concesso a tutti. Credo che per questa idea Carnegie si rivolterebbe nella tomba. E insomma, siamo alla fine del video. Io ho cercato di riassumere entrambe le posizioni. Sia quella di Carnegie o quella di Bill Gates del suo giving pledge, cioè quella della filantropia, oppure anche quella di Bregman dove appunto i filantropi non dovrebbero esistere e lo Stato dovrebbe concedere a tutti un reddito minimo grazie alle tasse imposte ai ricchi. Sono molto curioso di quello che pensate voi, se siete più dalla parte di Carnegie o di Bregman. Io personalmente, se siete curiosi della mia opinione, penso che entrambi gli approcci abbiano dei limiti e una via di mezzo si potrebbe sicuramente raggiungere. Però si sa, le opinioni sono come i compleanni. Tutti ne hanno uno e tutti pensano che il proprio sia il più importante. Alla prossima!